Va bene, qui ci siamo Finista, finista, finista Io ti tengo più muco, eh Hai detto bastardo Siamo nella merda? Cosa fa? Grande, mamma mia che culo Questo è proprio culo, eh Prendi il martellone Martellone Wow, questo mi piace, eh Lo scacciacani No, è giù così, però Eh, ma non volevo fare così Qua, vai, sleghiamoci, no? Mi hai detto Devo fare? Non era proprio quello Hai detto bastardo Oh, non ce la faccio Insisti, insisti Non ce la faccio Non ce la faccio E ne vinciste No, vai, vai, vai Non ce la faccio Ciao Con la freccia? Chi è questo? Non è il figlio del bastardo Non ce la faccio Quel pezzo di Vediamo un po' se ci puoi Porca miseria, no Chi è? Chi è? Ah, ah, stop È me È Luke Colpisce? Così Così Perciò di più No, non mi interessa No, non mi interessa Ok, ho fatto Il vostro è il vostro Il vostro è il vostro Il vostro è il vostro Non ho mantenuto un quarto Se voi Nessuno E E È la prima Che ho parlato a qualcuno Sono Inizio Ci sono Ci sono Inizio Inizio Il vostro è Bene, meno male! Dove andare? Dove andare? Sì, certo, certo. Ok, solo un secondo. Abbiamo solo bisogno di andare. Non c'è un verso. Beh, chi è che c'è il giro? Oh, scusate, scusate. Ok, Troy non mi piace di essere in lato. Sì, Clem, ho bisogno di conoscicici qui in questo momento, perché ho bisogno di prendermi una delle radio, ok? Hai pensato che puoi fare? Un'altra delle walkie talkie. Che palle, palle, palle! Se scopriamo i rivelai, ma tu... Dove li trovo? Dove li trovo? Dove li trovo? Grazie dell'aiuto, sei stato buona e tale. Quindi, se ci chiedono qualcosa non si sa. Eh? Se ci chiedono qualcosa non si sa. No, no. Oh, loro gli facciamo una spia subito. No, ma i suoi amici. Ah, no. Guardavo i fumetti, mi nascondevo da vacanti, niente... Zitto. Zitto. Dio, tu sei stupido, Sara. Bill Radio, voglio una parola con te nel suo office. Allora, vieni qui, ora! Chi è Bill? È il capo. No. Ah, già, giusto. Si è detto bastardo. Ehm... 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 Penso a come è morta Bill. E si poteva salvare. Rebecca! Lei ha detto che è grassa. Lei è una moglie forte, surrounded by uomini. E io non lascio i miei figli riusciti da qui. Andiamo qui. Quindi cosa vuol dire? Con lui sincerità, eh, mi raccomando. Con lui tu, diciamogli tutto. C'è la sputtanastica, sputtana. Sì, sì, sì. Anche Kenny. No, Kenny no. Kenny si tocca. Tell me the truth when you're sitting where you are, and you won't end up over in that chair. Now you might not believe this after what happened earlier, but I liked Reggie. He was a funny guy. He kept things light. You need folks like that. It's easy to let depression sink in during times like this. But he was weak. And I don't mean just cause he was mean. That wasn't his problem. He was weak of will. And weak of character. And we can't have that around here. Not anymore. No, but you're a mistake. No, but you're a mistake. You're a murder. You can try and call it something else. But I know what it is. What it really is. But it's the truth. Qui sa? Sai di abbastanza, подтosto che ti hai denomato sul campanile, puoi tenerti lato color pe Mantua? Non è molto diverso. No, è vero. E noi siamo forti. Allora, io voglio. Noi siamo forti, è vero. Oh, questo è vero. Questo è il cazzo. Beh, penso anch'io. Si stava zitti soprattutto. Ti aiuterò? Ti aiuterò? Mi piace. Mi piace davvero. Hai un bel piano. No, ora che ragazza? Senti, c'è un tipo che ti vuole. Ti tocchi? Uccidiamolo, tuoi. E poi? Non penso che sia un'emergenza o nulla. Uno che ci tratta con rispetto, come il Lee. Sotto sotto lo sapevo che gli eravamo piaciuti. Sì, sì. Abbiamo trovato lui il Lee che ci mancava. Sì, sì, sì. Sì. Ma che cosa urla? Sì. Grazie. Ma c'è quella riguarda una buona idea? Sì. Siamo zitti? Siamo zitti? Sì. 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 Noi siamo, non siamo conślę, con le Carpes. News it. Sono con Brand. Sì. Allora i fai... perchè non cambia niente questa non è una discussione su come farlo è una discussione su se è stupido e è ancora stupido la cosa sensibile è riuscire a lui e aspettare per un'opera sei davvero difficile da affrontare a volte nemmeno io proprio sembra quello meno meno logico non può stare oh boh che cazzo non è fatta ah boh se vuole mettere si è uccide tutto ma questo non è il piano di velato non ho capito va bene oh vedi lui anche io che ti manca l'orecchio no è l'orecchino ascolta meglio velo che lavora non c'è dubbi ma lei si fa così perchè in città si può muore ecco lei spiega che se ci si smerda si può passare è vero perchè loro non hanno visto le nostre prime puntate è vero perchè loro non hanno visto le nostre prime puntate è vero ma lei è intelligente è mio verbo vedi 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 siamo ancora intelligenti anche se siamo morti ti pareva una pazza si ma andiamo ganza dobbiamo andare dietro la pazza ganza andrà dietro la pazza questo ci piace all'imitare all'imitare non moltissimo all'imitare L'imitare come siamo cazzo di boia ma è agganciato perchè se ne è tutto inutile ciao ma che devo fare? lo sapevo io la scala e briscola poteva aspettarli lasciar bastardo che bel camion bene 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 ma non ci vedono perchè noi siamo coppi ahahahah no si va a diretti ma qui non ci si potrà mica entrare è chiuso è stato musa lanciarsi del lucennale era qui si quanto ci sono? si come posso essere? no spero che ci passano perciò perciò credi che siamo pronti questa volta? non lo so Bill pensa che siamo ovviamente lo fa ma pensava la stessa cosa l'ultima abbiamo aprenduto molto da l'ultima no siamo bloccati no bisogna trovare il figlio di Dario che diceva signorina signorina ecco la ecco la ma fai che cammina come la Pantella Rosa eh eh tadam 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 erano belle i cartoni animati della Pantella Rosa con quella con il gasone ci hanno detto come scendere ma come si sa ragazzi nostri un po' più a destra non è dentro pochino così capito dovere vado adesso quello più alto no mi fa andare sempre là su questo noooo come no guarda vedete un po' non fa nulla vai ora si ma te l'ho detto vai vai maledetta te Cosa dice? Ma ci ha visto Ci ha visto Vai Magari pigliato carico Prigionieri Walkie-talkie Su Giù Non me lo fa Non mi fa Sì Non lo so Hank, Bill ha un plan Guarda, diciamo che ci chiamiamo per ora Siamo parlare Ma cosa devo fare? Aspetta Sì, dopo Sì Sì Vai Tira Ah perché non tiravo un su, due, vai Ci siamo Prenditi tutti Prenditi tutti Ma però due Perché se no come ci comunica le osse Ha ragione Non ci vede Oh Oh, eccolo No Ma fari fumare una sigaretta Ma chi è Vince? È quello lì, non è lo psicopatico Ah sì sì sì, è vero Il caccerato Dove è la macchina? Eh Ti fiedi te?